ben ritrovati a tutti per una nuova puntata del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà che è giunta alla puntata numero 26 come tutti ben sappiamo stiamo facendo insieme questo ciclo di riflessioni di conversazioni di sante considerazioni ci spera su quella parte degli iscritti di Luisa Piccarreta del libro di cielo che trattano in particolare l'argomento Adamo e quindi come era la vita di Adamo come era il progetto di Dio originario sull'umanità perché come sappiamo gli iscritti della divina volontà sono fondamentalmente una esplicitazione un'esplicazione di come l'opera della redenzione compiuta da Gesù abbia come fine ultimo non soltanto restituirci la vita della grazia per mezzo della quale con molta fatica possiamo vincere noi stessi e conseguire l'eterna salvezza ma anche la possibilità di vivere appunto una vita di cielo si chiamano libri di cielo per poter vivere una vita di cielo già su questa terra certamente senza fraintendere questa cosa senza farsi indebite illusioni però è realmente una vita di cielo che comincia sulla terra ecco questa sera passeremo al 26esimo volume l'ultima volta abbiamo visto alcuni brani del 25esimo vediamo se riusciamo a leggerne tre ecco per chi sta seguendo la diretta facebook trova i riferimenti nel titolo così se vuole ecco può seguire la lettura in diretta per magari essere facilitato appunto nella possibilità di ascolto e di comprensione io non farei troppe introduzioni anche queste per orizzontarsi bene non sempre bene seguire tutte quante però è anche vero che ciascuno di queste catechesi quindi può anche tranquillamente formare un capitolo a parte ecco perché non sono necessariamente linearmente e logicamente interconnesse ecco diciamo che al termine speriamo che venga un bel quadro ecco però un quadro dove o un puzzle forse meglio ancora dove le tessere vengono un pochino inserite in ordine sparso e poi alla fine speriamo che la mano di Dio tracci un bel quadro insomma un bel puzzle ecco di senso compiuto ecco in modo tale che al termine di questa di questo viaggio possiamo farci un'idea migliore ecco di di quella che è un po' la vita nella divina volontà allora io comincerei con la lettura del 26esimo volume 21 aprile 1929 sono molto belli sono brevi ma sono molto belli questi tre stranci per cui ce li gusteremo piano piano figlia mia la santità fatta nel mio volere divino possiede tutta la pienezza ma tanta che se Dio volesse donarle volesse darle di più non troverebbe luogo dove mettere altra luce altra bellezza noi diremo tutta bella tu sei né altra bellezza possiamo aggiungerti tanto sei bella sei opera del nostro volere e ciò basta per essere un'opera degna di noi e l'anima dirà sono il trionfo del vostro fiat perciò sono tutta ricca e bella posseggo la pienezza di un atto del vostro volere divino il quale tutta mi riempie se voleste darmi di più non so dove metterlo tale fu la pienezza della santità di Adamo prima di cadere nel labirinto della sua volontà umana perché possedeva il primo atto del nostro fiat generatore della sua creazione e perciò possedeva pienezza di luce di bellezza di fortezza e di grazia tutte le qualità del nostro fiat riflettevano in lui e lo abbellivano tanto vedere in lui e così ben scolpita la nostra cara immagine che il nostro essere divino formava in lui e perciò la donta che cadde non perdette la vita né la speranza rigeneratrice del nostro fiat perché avendo posseduto nel principio della sua vita la pienezza dell'atto suo non volle perdere colui che lo aveva posseduto la divinità si sentì talmente legata ad Adamo che non si sentì di sbandirlo per sempre per perdere ciò che una volta è stato posseduto dal nostro fiat ci vuole troppo la nostra forza si sentirebbe debole il nostro amore il fuoco che possiede si restringerebbe per non farlo sarebbe il vero imbarazzo divino perdere colui che ha posseduto un solo atto della pienezza della nostra volontà allora invito anzitutto come sempre a cogliere alcuni tratti del linguaggio che Gesù usa qui comincia anzitutto con un pane girico con un'apologia con un elogio della santità fatta nel volere divino e se ci si fa caso sono due o tre i luoghi dove Gesù la elogia e il termine che sempre ricorre in tutti e tre i luoghi è quello di bellezza dice che se Dio volesse dare di più non troverebbe più luogo dove mettere altra luce altra bellezza l'anima che viene nel fiat dice sono tutta ricca e bella ancora prima di cadere l'anima di Tau possedeva pienezza di luce di bellezza di fortezza e di grazie ora io su questo sono evidentemente ancora molto amico come è ovvio che sia anche del Papa Emerito di sua santità Benedetto XVI sapete che Benedetto XVI e conformemente anche alla sua posizione teologica ci teneva molto a parlare della bellezza anche come strumento di risurrezione di riscatto di rinascita della vita stessa della Chiesa e dei cristiani ecco quella bellezza perché la bellezza forse è uno degli attributi proprio che poi è direttamente connesso con l'amore che meglio descrivono cosa è Dio Dio è anzitutto bello Dio è bello le nostre Chiese dovrebbero essere belle belle non significa sfarzose ricche pacchiane insomma ma belle belle perché perché sono un riflesso della bellezza di Dio dietro architettura di tante belle chiese di tante cattedrali di tanti stili che hanno fatto epoche c'era quest'idea che siccome la Chiesa è la casa di Dio quando entri in Chiesa è chiaro che questa è una cosa molto alla lontana ma devi farti un'idea di quanto è bello il paradiso il paradiso è bellissimo non pensiamo che il paradiso sia una cosa brutta il paradiso è quanto di più bello si possa concepire e immaginare i santi sono tutti bellissimi la Madonna è bellissima l'umanità santissima di Gesù è bellissima la Santissima Trinità dà un godimento cioè è immaginabile semplicemente contemplarla per quanto è bella la vita nella Divina Volontà è bella la santità è una cosa bella cioè vivere da santi provarci almeno non è una cosa brutta diceva no se adesso mi metto a fare il santo adesso questo non si può fare questo non si può fare mi devo privare di tutto chi lo sa che succede tocca fa penitenza pure qualche digiuno pure qualche mortificazione che vita grigia ecco come i giorni che da queste parti stanno caratterizzando il clima insomma no foschi uggiosi ecco invernali proprio per un profondo inverno la santità non è così la santità è una divina volontà che è la pienezza della santità come abbiamo qui sentito dire in maniera stupenda da Gesù schiude le porte di una vita bellissima e come tutte le cose belle voi sapete che la bellezza è qualche cosa che deve essere necessariamente gustata personalmente cioè io non posso se sono un un amante per esempio dell'arte vedo un bellissimo quadro io lo posso pure descrivere questo bellissimo quadro no ma nessuno potrà godere le bellezze di quel quadro se non vado avanti al quadro e lo guardo quindi uno degli attestati più a mio avviso autentici per certi aspetti proprio inequivocabile meno per quanto mi riguarda dell'origine certamente mi avviso divina insomma di questi scritti è che se tu provi a a muovere qualche passetto insomma a inoltre artici a mettere qualcosa in pratica non c'è niente che ti possa come dire nessuna catechesi nessuna cosa che ti possa confermare in essa più di quello che vivi cioè è assolutamente impensabile che chi entra in questo mondo non entri in contatto certamente misterioso ma reale con l'infinita bellezza di Dio percepisce perché la vita nella divina volontà è una vita felice anche in questo mondo tutta ricca e bella chi vive nella divina volontà è pieno di beni soprannaturali perché gli da nostro signore gli ripartecipa pienezza di luce sono termini molto molto belli di luce che se Dio volesse darle di più specifiche non troverebbe luogo dove mettere altra luce per esempio l'esperienza della luce è anche un'altra cosa personalissima luce che significa cosa sapete che con la luce noi vediamo io adesso sto qui a casa mia insomma a fare questa catechetici sta la luce accesa se spegnessi tutte quante tutte quante le luci non si vedrebbe niente ecco con la luce si vede quante cose si vedono alla luce della divina volontà tantissime tantissime si vede qualche cosa di quello che si può vedere di Dio nella sua più viva verità e autenticità oggi si parla ormai sono una trentina quarantina d'anni insomma che si parla sempre dobbiamo fare esperienza di Dio esperienza di Dio esperienza di Dio esperienza di Dio esatto qui c'è una tra virgolette certa esperienza perché non è un'esperienza proprio come se andassi al cinema quindi assolutamente inquadrabile sotto la categoria la categoria dei sensi però è un'esperienza autentica di ciò che Dio è lo vedi alla tua luce vediamo la luce dice uno splendido salmo vedi con occhi differenti te stesso cioè la bellezza di Dio è riflessa nella bellezza nostra e comincia a imparare e questo è molto importante che tu sei bello la depressione finisce con la vita nella divina volontà perché tu sei bello a prescindere da come ti sei ridotto perché la nostra anima è un capolavoro di bellezza e noi piano piano in questa vita dobbiamo semplicemente un po' come fa lo scultore che tira fuori la forma dalla pietra grezza dobbiamo semplicemente togliere tutte quante le sovrastrutture chiamiamole così che hanno oscurato la bellezza della nostra anima per farla vivere e volare così come deve vivere e volare se uno vive in questa forma di vita trova tutti gli strumenti e i mezzi per compiere questa operazione l'altra bellezza che si vede è nel creato la luce il creato è una cosa bella è stato tutto quanto fatto per noi quindi cioè io penso che anche la portata come dire benefica dei giri che si fanno nel fiat creante sia veramente come dire un toccasana spirituale di guarigione interiore per molti cioè quando tu ti siedi a tavola sei consapevole insomma che quei gusti che peraltro sai anche moderare no? perché nella di una volontà c'è questo che provi sono però degli atti di amore di Gesù atti di amore che tu devi prendere atti di amore che tu devi ricambiare si scopre anche la bellezza profonda del prossimo e come dire si si ha maggiormente compassione io di questo me ne accorgo delle miserie del prossimo perché si capisce molto bene quando compaiono appunto aspetti miseri poveri di chi ci sta vicino quali sono appunto quei labirinti orribili della volontà umana tale fu la pienezza di santità del amo prima di cadere nel labirinto della sua volontà umana nei labirinti ci si perdono nella meditazione di questa mattina dicevo ecco che nella divina volontà il labirinto è termine ambivalente ecco quando lo si applica alla volontà umana vuol dire che tu ecco ti vai a incartare ecco dentro dinamiche da cui non esci più e le vite delle persone sono proprio piccole misere io personalmente parlando ascoltando guardando le persone mi accorgo benissimo come gli unici problemi che ci sono in tutte le vite dipendono solo da questo dal vivere di volontà umana molto umana a volte troppo umana e però ti viene un senso come dire di di compassione di vera misericordia misericordia proprio veramente sincera nel senso che tu senti santa pena non in senso brutto non in senso dispregiativo o commiserativo ma compassione del prossimo perché lo vedi imprigionato dentro quei labirinti e si comprende anche un pochino a mio avviso di quel dolore immenso che Dio sente in un scritto che abbiamo omesso insomma che precedeva questo diceva Adamo mi costrenzia al silenzio cioè ha respinto la mia volontà e tutto quanto quello che volevo dargli me lo so tenere per me mi ha reso inattivo mi ha spinto al silenzio mi ha costretto al silenzio non ha voluto bel dramma ecco però in questo primo brano c'è anche scritto uno dei fondamenti questo dobbiamo impararlo bene del ripristino della vita nella divina volontà ed è il fatto che comunque Adamo prima del peccato originale è vissuto in questa vita e ha posto in essere dice Gesù degli atti divini che non potevano andare perduti non potevano se fosse stato tutto perduto dice sarebbe stato il vero imbarazzo divino quindi perdere del tutto colui che ha posseduto anche un atto solo è la pienezza della nostra volontà quindi Adamo ha fatto un guaio certamente ma compiendo una serie di atti nell'involere Adamo è anche stato come dire la condizione di possibilità perché questa vita potesse comunque tornare tra di noi passiamo adesso al 12 maggio del 1929 che dice così dopo ciò stavo pensando quando nostro signore salì al cielo glorioso e trionfante con la sua umanità non più umiliata soggetta alle pene con la divisa dell'Adamo decaduto ma intangibile da ogni pena con la divisa del nuovo Adamo innocente con tutte le prelocative più belle della creazione vestito di luce ed immortale ma mentre ciò pensavo il mio dolcissimo Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia la mia umanità rifece in sé e sopra di se stessa tutti i mali dell'umanità decaduta fino a morire per darle virtù di farla risorgere dalla morte cui era soggetta ecco la causa per cui non lasciai il regno della mia volontà divina sulla terra perché mancava l'umanità dell'Adamo innocente gloriosa ed immortale per poter impetrare e ricevere il grandono del mio fiat perciò era necessario che la mia umanità prima rifacesse l'umanità decaduta e le desse tutti i rimedi per rialzarla poi morisse e risorgesse con le doti dell'Adamo innocente per poter dare all'uomo ciò che aveva perso non solo ma vogli salire al cielo con la mia umanità bella vestita di luce come uscita le nostre mani creatrici per dire al Padre Celeste Padre mio guarda come la mia umanità è rifatta come il regno della nostra volontà sta al sicuro in essa sono io il capo di tutti e chi ti prega ha tutti i diritti di chiedere e di dare ciò che possiede figlia mia ci voleva un'umanità innocente con tutte le doti con cui uscite le nostre mani creatrice per impetrare di nuovo il regno della nostra volontà in mezzo alle creature ecco qui ci sono alcuni aspetti importanti che fanno comprendere da un lato l'ordinazione dell'opera della redenzione al ripristino della vita nella divina volontà dall'altro alcune cose che in concreto ha dovuto certamente dovuto perché voleva fare nostro Signore Gesù Cristo l'occasione di queste considerazioni sono la meditazione di Luisa sull'ascensione di Gesù al cielo noi sappiamo che Gesù ha avuto di fatto una doppia vita come dice San Paolo su questa terra fino a quando non ha compiuto l'opera della redenzione pur essendo senza peccato e apparsi in una carne simile a quella del peccato cioè era una condizione appunto umile soggetta al patire soggetta alla morte Gesù è morto veramente non è morto per scherzo quindi ha preso la nostra condizione decaduta pur essendo senza peccato perché lo spiega perché doveva rifare in sé e sopra se stessa sopra la sua umanità tutti i mari dell'umanità decaduta li doveva prendere tutti e li ha presi tutti fino a morire per darle virtù di farla risorgere dalla morte cui era soggetta attenzione non soltanto la morte fisica morte fisica è l'ultima conseguenza del peccato ma la morte dell'essere per usare una parola forte si può chiamare la morte ontologica la morte che produce ogni situazione di peccato e poi spiega Gesù se non riportavo in cielo un'umanità che avesse prima preso su di sé tutto quanto il male e poi fosse risorta completamente rifatta e nuova quindi riprendendo dopo aver distrutto tutte le conseguenze negative le doti dell'umano e della dama innocente e portarle al cielo davanti al padre celeste non poteva non poteva assolutamente esserci alcun ripristino di quello che era stato perduto Gesù davanti al padre prega in questo modo come ci ha detto padre mio guarda come la mia umanità è rifatta come il regno della nostra volontà sta al sicuro in essa io sono il capo di tutti e che ti prega tutti i diritti di chiedere e di dare ciò che possiede ci voleva un'umanità innocente con tutte le doti con cui uscì dalle nostre mani creatrici per impetrare di nuovo il regno della nostra volontà in mezzo alle creature quindi questo fa comprendere come l'opera della redenzione era funzionale al regno della divina volontà Gesù dice io non lasciai subito il regno della mia volontà sulla terra perché mancava l'umanità dell'adamo innocente gloriosa ed immortale per poter impetrare e ricevere il grandono del mio fiat quell'umanità dell'adamo innocente Gesù nella sua persona quindi nella sua umanità glorificata l'ha portata presso il trono di Dio da dove è iniziato il suo ufficio di impetrare il ritorno della divina volontà sulla terra leggevo proprio questa sera durante il mio tempo di lettura personale Gesù diceva a Luisa guarda per avere la redenzione sono uva di 4 mila anni ma per il regno della mia volontà se ne vorrà un pochino di meno ecco perché io ho insegnato il padre nostro ai miei figli quindi anche se molti dei miei figli non si rendono conto di tutto quello che chiedono col padre nostro ma ogni volta che diciamo il padre nostro diciamo adveniat regnum tu un fiat volontas tua sicurit in cielo e in terra venga il tuo regno sia fatta la tua volontà cominciare così in terra quindi sia che uno lo sappia se uno lo sappia se uno ci creda se uno non ci creda ogni volta che diciamo il padre nostro noi stiamo implorando l'avvenuta del regno della divina volontà lo stiamo facendo e quindi Gesù faceva questo ragionamento erano in pochi nell'antico testamento a chiedere all'avvento del messia per questo che ci ha avuto tanto tempo ma qui ci sono miliardi di cristiani che stanno pregando anche inconsapevolmente per questo è certo che poi quando qualcuno viene a conoscere l'esistenza di questa vita certamente penso che non c'è bisogno di dire che ne faccia oggetto di una propria personalissima e accolata preghiera perché soltanto l'avvento cioè o si impara a vivere in maniera divina e soprannaturale perché se si vive in maniera divina e soprannaturale facciamo subito un esempio tanto per ecco le catechesi sapete che vanno sempre un po' concretizzate vediamo i rapporti interpersonali le nostre relazioni come sono e come sono le relazioni nella divina volontà le relazioni nella divina volontà sono sono bellissime perché sono relazioni nei confronti del prossimo parliamo di amore di amore di carità però di prossimità di vicinanza che però non diventa mai invadenza o confidenza di profondissimo rispetto perché Dio rispetta la nostra libertà è un figlio della divina volontà è rispettosissimo della libertà del prossimo rispetto della libertà che non vuol dire di lontananza o menefreghismo ma il rispetto cioè il rispetto della libertà e anche il rispetto della dignità del prossimo un figlio della divina volontà non sa neanche cosa sia l'insulto per esempio è l'offesa del prossimo cioè voi immaginate Gesù e Maria che insultano e offendono il prossimo perdono a tutti sempre pace con tutti dolcezza con tutti affabilità con tutti cordialità con tutti vicinanza con tutti sorriso con tutti insulti a nessuno maldicenza a nessuno formulazioni con nessuno pettegolezzi con nessuno grida urla calunnie diffamazioni proclami polemiche zero legami dipendenze affettive fare le cose per farci dire bravi perché gli altri ti vogliano bene perché ti stimino perché ti considerino o no non c'è più e tu dici eh però ma è umano che queste cose siano è certo che è umano lo sappiamo che è umano ma è più bello ciò che è divino rispetto a ciò che è umano quindi questo è semplicemente una perché la vita nella divina volta è questa ecco è un altro mondo quindi è aria celeste d'accordo aria veramente celeste allora andiamo a vedere il terzo e l'ultimo scritto di oggi che è il volume sempre 26 16 maggio 1929 sentivo il risistibile bisogno di riprendere e rifare con te tutte le conversazioni che avrei fatto con Adam innocente di darti le grazie e gli insegnamenti che gli avrei dato se non avessere spinto la preziosa eredità del mio Fiat egli spezzò il mio dire e mi ridusse al silenzio e dopo 6.000 anni di silenzio sentivo l'estremo bisogno di riprendere del mio dire con la creatura oh come era doloroso contenere nel mio cuore tanti segreti che dovevo confidarle e solo per lei erano riservati non per altri e se sapessi quanto mi è costato tacere per sì lungo tempo il mio cuore era soffocato e delirante e ripeteva sommessamente ahimè creai l'uomo per avere con chi parlare ma doveva possedere la mia divina volontà per intendermi siccome me la respinse mi ha reso il Dio taciturno che dolore che sento che amore soffocato che mi faceva venire meno e delirare perciò non potendo sopportarlo più a lungo l'ho voluto rompere con te ho spezzato il mio lungo silenzio e quindi la necessità della foca del mio dire così a lungo e spesso ripetuto e mentre mi sfogo con te nel dire mi sento come se ora stessi dando principio alla creazione perciò in queste pagine ti sto facendo scrivere il perché vero della creazione che cosa è la mia volontà il suo valore infinito come si deve vivere in essa il suo regno e come vuole regnare per rendere tutti santi e felici tutti resteranno sorpresi nel leggere queste pagine e sentiranno il bisogno che il mio fiat viva in mezzo a loro la divinità sente un irresistibile necessità di completare l'opera della creazione e questa sarà completata con regnare la nostra divina volontà in mezzo alle creature allora io partirei stupendo anche questo questo brano ecco da una delle ultime affermazioni tutti resteranno sorpresi nel leggere queste pagine è fondamentalissimo ecco non soltanto l'ho detto tante volte lo ripetono anche persone molto più esperte molto più addentrate di me in questa vita di cielo con esperienze di molti più anni di di tempo insomma bisogna leggere bisogna leggere e prendere e ascoltare anche le proprie risonanze interiori Gesù dice tutti resteranno sorpresi nel leggere queste pagine cioè perché quando uno legge alcune cose ci sono due possibilità o uno le prende sul serio o uno non le prende sul serio o uno ci crede o uno non ci crede o uno pensa che queste siano scritti di una povera donna con la prima elementare perché questo era Luisa Piccarreta oppure se insomma qualunque persona sensata penso che non possa come dire attribuire alla causalità così inadeguata insomma la produzione di queste cose l'ho detto già tante altre volte lui dice qui c'è qualche altra fonte però le cose che dicono le cose che dice Gesù sono grosse in questi scritti spiega io ti sto facendo scrivere il perché vero della creazione perché Dio ha creato perché Dio ha creato perché gli scienziati dicevano non mi ricordo se hanno una frase anche da Einstein però forse no quindi non ogni tanto ho la mente dove mi si accavallano le informazioni dicono perché c'è qualcosa anziché il nulla perché cosa ha creato a fare Dio tutto quanto cosa ha creato a fare a te che ci stai a fare tu qui sul pianeta Terra le grandi domande no che cosa ci stai a fare qui sul pianeta Terra che cosa è la vita un susseguirsi casuale di fatti cose situazioni una ricerca incessante ecco di passartela meglio che puoi divertirti il più possibile ma poi non mi posso dirti troppo perché certe cose non le posso permettere ci vogliono troppi soldi e poi non è che poi mi diverto così tanto insomma perché assaggiate tante cose insomma sono sempre miste a sapori poco poco gradevoli e poi ci stanno comunque le sofferenze poi ci stanno comunque le delusioni ci stanno comunque i lutti insomma se vuoi sapere ci stanno sul pianeta Terra che cosa ci stiamo a fare il perché della creazione cioè oggi noi per esempio abbiamo tante cognizioni scientifiche io lo dico senza nessunissimo sono felice di essere vissuto in quest'epoca perché non è la stessa cosa ma neanche accostarsi a questi a questi a questi scritti con il bagaglio di cognizioni anche scientifiche che abbiamo oggi piuttosto che che non averle cioè è vero che molti scienziati come dire usano le scoperte scientifiche addirittura in chiave come dire strumentale anti come dire antifede quindi anticredente cioè che secondo loro il progresso scientifico sarebbe la dimostrazione dell'inutilità della fede quando in realtà il progresso scientifico fornisce argomenti su argomenti su argomenti proprio per andare a confermare tante cose che noi già sappiamo dal patrimonio della fede e a chi li sa vedere danno degli strumenti potentissimi per rendere intellegibile ma ancora meglio la fede non solo l'uomo del nostro tempo ma per rendere più intellegibile rispetto a prima perché è uno strumentario che prima non c'era non c'era non c'era sapere che che ne so che la terra gira intorno al sole alla velocità di 108.000 km l'ora e non penso che nessuno di quelli che stiano ascoltando questa catechesi lo stanno facendo diretta a facebook se che ascolteranno poi il video se ne stanno comodamente seduti insomma non credo che siano consapevoli cioè sapete quanto è andare a 108.000 km l'ora è tanta roba gli aerei vanno al massimo a 1.000 km l'ora 108.000 km l'ora sono 108 volte tanto la velocità di un aereo insomma stiamo viaggiando a discrete insomma velocità eppure allora questo dato che ti importa questo qua come che ti importa questo dato è fondamentale in un orizzonte di fede perché che cosa ti dice che ci sono delle cose reali anche nel mondo fisico che certamente accadono e che di cui noi non abbiamo nessunissima coscienza per esempio le cose della fede sono cose che accadono ancora di più di quelle scientifiche se vogliamo insomma usare un iperbole ma che non ti lasciano nessuna coscienza cioè può succedere che tu devi fare la comunione credendo fermissimamente come devi che stai ricevendo Gesù e a livello cosciente sensibile tu non avverti nessun tipo di mutazione ma se l'anima potesse parlare te lo racconterebbe quello che succede quando fai la comunione quindi questo per dire se uno li sa vedere certi dati scientifici pensiamo ai dati della genetica il DNA cioè quindi cioè tutto quanto quello che sappiamo oggi sui cromosomi per esempio quindi cioè tu dici ma chi ha pensato una cosa di questo genere cioè è una mente dalla sapienza infinita ed è anche uno che sa fare cose sono fatte in un certo modo io ho un rimpianto ho un fesso insomma cioè sono contentissimo di fare il sacerdote ma se ci avessi una giornata lunga se 72 ore cioè che fosse il triplo io passerei parte del tempo sapete a fare cose andarmi a studiare la fisica a studiarla meglio perché ho studiato poco la chimica la genetica la biologia perché alla luce di quello che so adesso cioè io mi andrei a fare una bamboffata perché se tu leggi una legge fisica tu stai a contatto con qualche cosa che ha stabilito la sabienza di Dio quella legge fisica quella reazione chimica gli atomi per esempio ogni tanto stanno anche sul mio sito le catechesi di Enrico Medi gli scienziati che hanno utilizzato bene il cervello come dovrebbero e che attraverso la scienza non è che siano lontani sono vicini ancora di più al nostro signore se andare a sentire le catechesi di Enrico Medi quando parlava di certe cose che ero che ero che ero che ero che ero dice professore ci parli degli atomi quello quando parlava degli atomi parlava di nostro signore perché non è che che c'entrano gli atomi con il nostro signore ma come che c'entrano gli atomi con il nostro signore ma quella è la particella elementare della materia come che c'entrano la legge della relatività di Einstein secondo voi non c'entra con il nostro signore ma come non c'entra che la massa si converte in energia ma come non c'entra c'entra e come quindi se io potessi purtroppo ho delle riminiscenze molto molto limitate d'accordo quindi ma io adesso andando in estasi lo scopo della creazione è tutto quest'ambaradana che è stato fatto intorno a noi che è stato fatto per fare contento me e te cioè noi abbiamo molto tanto un universo che sta al nostro servizio ci abbiamo tutta quanto una serie di manifestazioni di sapienza di bellezza di bontà di Dio che ci fanno corteggio intorno per parlarci della sua bontà e del suo amore e l'unico motivo per cui tante cose noi non le vediamo è perché è il nostro peccato quello di chi ci sta intorno che ha che ha sporcato ha guastato ha rovinato ha imbrattato l'ho detto altre volte no cioè noi purtroppo a volte lo facciamo senza senza renderci conto siamo degli imbrattatori io ho fatto in altri interventi in altre catechesi simili adesso a me ricordo nemmeno appoppiate pazienza non so faccio solamente tante che poi mi scordo ma dico sempre cioè noi siamo criminali come come uno che si presentasse davanti alla pietà di Michelangelo quella che sta in Vaticano appena si entra a destra a San Pietro e va lì Pia vernice nera verde rossa boom gliela butta addosso dopodiché Pia è un punteruola la sgraffia prende un martello la prende a martellate e tu c'è quella opera d'arte meravigliosa a un certo punto te la ritrovi tutta colorata tutta rotta tutta sbeccata tutta così e questo è quello che abbiamo combinato noi e nonostante questo Gesù è venuto sulla terra a cercare di rimettere a posto le cose e vuole ripetere le opere d'arti che siamo noi belle come sono uscite dalle sue mani perché in due parole questa è la vita nella divina volontà è interessantissimo vedere per esempio in questo scritto creai l'uomo per avere con chi parlare ma doveva possedere la mia divina volontà per intendermi e siccome la respinse mi ha reso il Dio taciturno molta gente si lamenta e dice che Dio non parla Dio è nascosto e chi lo sa se esiste attenzione non è che Dio non parla è che tu non lo capisci più tu non sei più capace di ascoltarlo cosa ho detto tante volte che cosa si impara nella vita nella divina volontà si impara ad andarlo a riscoprire a saperlo riconoscere a saperlo rivedere il Signore un esercizio fondamentale che si fa qui è andare a riappropriarci di tutte quante le dichiarazioni di amore che Dio ha lasciato per esempio nel creato poi lo step successivo è che tu devi andare a riappropriarti di tutti quanti di amo che Gesù ha lasciato nella tua vita imparare a riconoscerli nella vita passata nella vita presente imparare anche a riconoscere perché magari in tante circostanze della tua vita forse passate il Signore ti ha dato delle chance ti ha dato delle opportunità magari le hai perse non fa niente c'è ancora tempo per riparare c'è tempo per recuperare c'è tempo per riprendere il tempo perduto c'è tempo per cambiare c'è tempo per svoltare c'è tempo per ricostruire e l'ottimismo che deriva anche dalla conoscenza di questi scritti e dalla loro comprensione si basa sul fatto cioè che Dio sta completamente dalla nostra parte Dio ha fatto tutto che ha creato a fa che ha creato a fare Dio ha creato te ma proprio te ma proprio te proprio me perché tu sia felice qui e dopo in due parole solo per questo non ci sono altre motivazioni abbiamo parlato abbiamo iniziato la meditazione di questa sera notando come parlando della divina volontà ricorre sempre il termine bellezza 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 Dio ha talmente tante bellezze di cui fare sfoggio che tutta l'eternità non basterà per conoscerle tutte d'accordo e l'unico motivo per cui ha creato e per cui ha creato tra l'altro l'essere umano come vertice della creazione appunto dice volevo parlare con qualcuno volevo dirgli tanti segreti volevo dirgli tante cose e questo mi sembra mi ha chiuso le porte mi ha chiuso le orecchie come era doloroso contenere nel mio cuore tanti segreti che dovevo confidarli e solo per lei erano riservati non per altri e se sapessi quanto mi è costato da tacere per tutto questo tempo quante volte negli scritti si legge che il nostro signore ci farebbe vivere una vita meravigliosa ci ricolmerebbe di beni di doni ma non ce li può dare perché non siamo più in condizioni di saperli accogliere o di saperli ben adoperare perché molti dei doni che Dio ci farebbe se non c'è una trasformazione interiore nella nostra vita non diventerebbero strumenti per la vita ma diventerebbero come quasi tutte le cose che noi siamo in questo mondo fuoriere di morte pensiamo ad una cosa terra terra il mangiare il mangiare la varietà dei cibi dei sapori sono creature di nostro signore cioè Dio lo sapeva creando l'uomo che l'uomo funzionava con la necessità di alimentarsi per alimentarsi ti poteva pure creare le siringhe come si alimentano i malati pigli in avena prendi il glucosio e il resto che gli devono mettere gli eranietti dentro perché non puoi mangiare sarebbe bello campare così si campa si campa benissimo benissimo ma si campa non è più bello che te mangi in piatto le spaghetti alle vongole o che ne so un'orata al cartoccio è meglio no? ecco però noi che facciamo con queste cose? che facciamo? quanti sono gli esseri umani che sanno essere equilibrati nel mangiare che non si attrippano e poi diventi obeso d'accordo? ma non è obeso il fatto della linea e della l'idea che ti fa male gli uomini non si sanno limitare è buono bere un goccetto di vino? è certo che è buono ma goccetto ma tanta gente ti pide con l'alcol e abuse è buono bersi un goccetto non lo so di amaro fatto dai trappisti? è buono ma un goccetto perché se te ne bevi in bicchiere ti scoppia la testa quanti sono gli esseri umani che sono capaci per esempio di nello stato in cui ci troviamo adesso di vivere questo bel ti amo di Dio che so che così insomma terra terra diciamo perché questo è che sono i sapori della buona tavola del cibo e delle bevande in maniera corretta quindi che ti fai il Signore della Croce che ringrazia il Signore che l'hai avuto e che mentre parli ti fai una bella bella chiacchierata grazie di questo ti amo dei maccheroni che è diverso dal ti amo dei broccoletti eccetera eccetera e non è uno scherzo quando si mangia è una divina volontà se fanno queste cose e al tempo stesso sai dire punto d'accordo basta perché se andassi oltre trasformerei questo regalo in una cosa che mi va a fa male d'accordo perché se divento obeso mi va a fa male se mangi troppo poi si riempie la panza ti appesantisci te ne sono cioè l'organismo c'è tutta la serie di piccole spie con cui se fosse intelligente ti avvertirebbe esagerato non lo fare questa cosa qui no che cos'è questa stupidaggine è la trasformazione in male di una cosa che il Signore ha fatto per il tuo bene e da chi dipende questo dipende da lui non dipende da noi dipende dipende da noi nei giorni passati si è letta una bellissima lettura nell'ufficio delle letture di San Basilio Magno che dava la definizione classica di vizio e di virtù sapete che cos'è un vizio o una virtù la virtù è l'uso buono e conforme ai divini voleri delle facoltà e dei doni che gli stesso ci ha dato il vizio è l'uso cattivo e alieno dei divini voleri delle facoltà e dei doni che gli stesso ci ha dato è un problema di quello che ci facciamo e che cosa è successo che dopo il peccato originale purtroppo noi dove mettiamo le mani facciamo danni capite? ecco perché prima ci vuole l'opera della redenzione e dopo si può cominciare a vivere nella dina volontà perché anzitutto alcune cose devono essere sistemate devono essere neutralizzate perché almeno non ci puoi cioè Dio non te le può dare alcune cose ma non perché non voglia farti felice capito? cioè se tu hai un diabetico che non si sa controllare gli metti in mano un barattolo di Nutella è buona la Nutella io so anni però è buona sì ma se la dà un diabetico gli la può dare? no non gli la può dare perché muore però questo questo fatto attenzione secondo il nostro modo di pensare secondo quello che qui dice Gesù a Dio causa una sofferenza perché ha dei beni da darti che ti farebbero felice a condizione che tu ne facessi buon uso non te li può dare perché già sa che tu ne farai pessimo uso e allora ci stanno incerti dice l'espressione che dice no cioè era doloroso contenere dice che dolore che sento che amore soffocato mi faceva venire meno e delirare attenzione chi parla è Gesù cioè il delirio cioè ma tu guarda un po' che io ho tutte queste cose belle da al mio gioiello che l'uomo mi pozzo da quasi niente e noi campiamo con le briciole a volte semplicemente stando a complicarci incessantemente inesorabilmente la vita con quello che combiniamo dalla mattina alla sera detto fuori di metafora vivendo costantemente assecondando le pazzie le sciocchezze commesse dalla nostra umana volontà impazzita chi entra in questa vita fa come dire rende felice anche il nostro signore perché lo rende felice di farti felice io l'ho detto tante volte il peccato è offesa a Dio soprattutto nel senso che toglie a Dio la gioia di vedere la bellezza di quello che tu sei perché la deturpa e lo priva della possibilità di darti dei beni perché tu li imbratteresti ulteriormente li rovineresti quindi entrare in questa vita significa tra virgolette fare anche la felicità di Dio perché Dio finalmente potrà essere felice di cominciare a farti felice da subito da subito perché Adamo fu posto nel paradiso terrestre e la vita di Adamo sarebbe stata passaggio dal paradiso terrestre al paradiso celeste ora ho detto tante volte qui il paradiso terrestre non potrà riessere proprio identico a quello che ci aveva Adamo proprio al 100% così non ci puoi diventare ma qualche cosa che gli assomiglia abbastanza sì almeno secondo quello che mi sembra di aver capito e secondo quello che ha la mia percezione e questo vale la pena viverlo vale la pena provarci qui bisogna provare per credere provare per credere è chiaro che come sappiamo la vita nella divina volontà è fenomeno ampio complesso io lo non c'è è semplicissimo nella sua essenza evidentemente per come noi stiamo messi e per tutti quanti serie di campi di attenzione che apre è complesso complesso non significa complicato complesso significa complesso ci sono una serie di cose a cui io devo fare attenzione e che piano piano devo cominciare a settare secondo certi secondo certi equilibri secondo certe calibrature diciamo così ma poi la barca cammina e cammina bene cammina bene io ritengo che la più grande lo ripeto e concludiamo con queste parole la più grande conferma della straordinarietà divina di questi scritti sono gli effetti che produce questa vita in chi la comincia a fare tenendo presente che anche per quanto riguarda le cose straordinarie se uno legge Santa Teresa e San Giovanni della Croce quando cominciano a insegnare discernimenti per verificare se è un mistico e apparsa veramente la Madonna oppure qualcun altro oltre a tutta quanto una serie di fattori tecnici loro dicono guarda ce n'è una cosa che se si verifica questo può stare tranquillo guarda i frutti che produce quelle esperienze la persona diventa più umile diventa più piena di carità diventa più buona aumenta nelle virtù tranquillo che quella cosa viene da Dio tranquillo perché il diavolo non è un pazzo se simula qualcosa è perché attraverso qualcosa di simulato vuole farti diventare un po' peggiore e quindi i frutti saranno Gesù nel Vangelo non c'è un albero buono che possa produrre frutti cattivi e non c'è un albero cattivo che produca frutti buoni noi non abbiamo sempre la possibilità di controllare l'albero ma abbiamo sempre sotto controllo i frutti se impariamo ad essere sinceri almeno con noi stessi quando non ci stanno frutti buoni tu nella divina volontà non ci stai ancora vivendo quindi questo mettetelo bene in testa come dice Papa Francesco mettetelo bene se non ci sono frutti buoni belli gradevoli piacevoli qui ancora stiamo alle porte perché è inevitabile che se tu cominci ad entrare in questo mondo divieni più bello divieni più buono divieni più santo più tranquillo c'hai più luce c'hai più discernimento e tutte queste altre cose come Gesù promette allora io spero che tutti possiamo restare sorpresi nel leggere queste passi come Gesù vuole e desiderare ardentemente questo regno della divina volontà per rendere come Gesù dice tutti a partire da noi santi e felici perché a questo solo è ordinato e serve il regno del divinvolere come coronamento della creazione perché Dio ha creato solo per comunicare fuori di sé l'infinita bellezza e felicità che egli è e che egli vive ci sentiamo se ti vuole alla prossima settimana la mia benedizione e la mia buonanotte a tutti fiat ave grazie a tutti